Come si arriva allo stadio? Allo stadio in genere noi telecronisti arriviamo, almeno io, arrivo con un foglio dove ho scritto l'intro perché la voglio leggere per non sbagliarla. Poi utilizzo una serie di dati opta, sono tipo 40 pagine, non tutti vengono utilizzati, diciamo che io li sintetizzo. Questa è un po' più nella nostra coppia una roba da beppe però, quella dei dati statistici che determinano il modo di giocare di una squadra. Poi ho il mio archivio personale, tutto quello che hanno scritto su tutti i giocatori che giocano negli ultimi 30 anni, quindi è piuttosto corposo. Poi prima arrivavano le formazioni con i fogli, adesso in molti stadi, soprattutto esteri e soprattutto post-covid, ti arriva sul telefonino la formazione, però in genere ce l'hai, però diciamo che non è fondamentale perché comunque tu hai tutto preparato, sai chi giocherà, hai i nomi dei giocatori, hai il numero di maglia presente, passato e futuro, hai tutto. Una partita mi porta via anche 30-35 ore di preparazione, quindi quando arrivo sono sicuro di sapere tutto e in più spesso abbiamo il foglio con le formazioni, ma se tu non li sai a memoria, e mi è capitato in alcune partite di sbagliare e di non studiarli a memoria, diventi lento in telecronaca. Invece il nome del giocatore deve essere una cosa automatica e quindi li devi conoscere a memoria, tutti quelli della Rosa prima di iniziare la telecronaca, prima di arrivare allo stadio in realtà. Poi la formazione ce l'hai, ma se devi guardare la formazione per decidere che giocatore è, devi guardare il numero, ci metti troppo tempo, sei un telecronista lento.